Bene, siamo qui con Valerio Lago, sindaco di Tette. Le chiediamo quali sono i punti di continuità e quali le novità di un'eventuale sua nuova amministrazione. La continuità e la coerenza è sicuramente uno dei punti fondamentali. Abbiamo progettato in questi cinque anni, dopo i primi due, aver risolto dei problemi. Abbiamo progettato, quindi nei prossimi cinque anni andremo ad eseguire quello che abbiamo progettato, quindi nuove piste, un polo nuovo, la vivibilità di tese. Quindi tutti quei servizi che il cittadino ha bisogno, quindi con un occhio di riguardo sempre all'ambiente, percorsi per i ragazzi che vanno a scuola, per le famiglie che si muovono, che hanno bisogno di stare insieme, di trovarsi, ma soprattutto con un occhio di riguardo sempre, come abbiamo già fatto, ai conti. Abbiamo trovato 9 milioni e rotti, adesso sono 3-9, in cinque anni non abbiamo assunto mutui, abbiamo, oltre ad aver fatto un milione di euro circa di opere pubbliche, abbiamo diminuito la spesa e siamo comuni virtuoso, riconosciuto a livello nazionale.